Stanno a guardare in aria e ancora non hanno ben compreso che il prodigio a cui stanno assistendo, Gesù che si stacca da terra e sale al cielo, non è la fine ma l'inizio. A Regina Celi, affacciato su piazza San Pietro, Papa Francesco ha spiegato che l'ascensione segna il momento in cui la presenza di Cristo nel mondo è mediata dai Suoi discepoli. Discepoli che sono ancora una comunità spaurita, eppure a loro Gesù affida il compito immenso di evangelizzare il mondo. Questa promessa è accompagnata dall'assicurazione che Cristo sarà con tutti i Suoi fino alla fine del mondo, portando fortezza e sostegno nelle fatiche missionarie. L'ascensione ci ricorda questa assistenza di Gesù e del Suo Spirito che dà fiducia, dà sicurezza alla nostra testimonianza nel mondo. Ci svela perché esiste la Chiesa. La Chiesa esiste per annunciare il Vangelo, solo per quello. E anche la gioia della Chiesa è annunciare il Vangelo. La Chiesa, siamo tutti noi battessati. Oggi siamo invitati a comprendere meglio che Dio ci ha dato la grande dignità e la responsabilità di annunciarlo al mondo, di renderlo accessibile all'umanità. Questa è la nostra dignità. Questo è il più grande onore di ognuno di noi. Battessati tutti. Al termine della preghiera mariana, nella giornata delle comunicazioni sociali, Francesco è invitato a una informazione vera e libera da pregiudizi, quindi ha espresso solidarietà ai lavoratori Mediaset invocando il diritto al lavoro, concludendo con un caloroso grazie ai genovesi per l'accoglienza ricevuta. Il gruppo I.